Stiamo vivendo una crisi ambientale che minaccia il futuro di moltissime specie, tra cui quella umana. Una serie di eventi concatenati e senza precedenti nella storia del pianeta sta mettendo in pericolo la vita sulla Terra per come la conosciamo. Quindi ribelliamoci per difendere la terra su cui viviamo e le nostre montagne indispensabili per il nostro piccolo ecosistema. Grazie a tutti.